Musica È stato indetto da SIDIEF in collaborazione con l'Università dell'Aquila un concorso a premi per rilanciare il quartiere Banca d'Italia all'Aquila, devastato dagli eventi tellurici del 2009. Questo è un quartiere che ha bisogno di rinascere, rinascere non solo in termini architettonici o ingegneristici ma anche in termini di gestione dei servizi a supporto di questo quartiere. Le idee progettuali dovranno avere carattere innovativo basate su tecnologie ecocompatibili per riqualificare e dare nuova immagine al quartiere. Riteniamo che una delle chiavi per poter pensare ad una rinascita reale della città e perciò anche del quartiere Banca d'Italia non sia legata soltanto a un investimento immobiliare quanto piuttosto a un investimento pluriculturali ed interdisciplinare. Oltre ai premi in denaro, il primo qualificato avrà la possibilità di vivere gratis nel quartiere in un appartamento di 100 metri quadrati parzialmente arredato per un anno. Il miglior progetto riceverà una somma di 5.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato spetteranno 3.000 e 2.000 euro. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell'Ateneo Aquilano e a quelli del Gran Sasso Science Institute. Il contributo dell'Università dell'Aquila fondamentalmente è il mettere in gioco gli studenti dell'Università dell'Aquila. L'idea condivisa è stata quella di cercare di coinvolgere direttamente attraverso un bando gli studenti per capire che cosa può essere per un ragazzo, per i ragazzi che oggi vengono e fanno l'università qui, magari vengono da fuori, che cosa può significare reinterpretare la storia del quartiere alla luce di una nuova città che comunque sta rinascendo. È diversa, non sarà la città né che conosceva il quartiere Banca d'Italia alle sue origini né priva del terremoto. Quindi un po' un ripensamento globale, come abbiamo detto, in chiave moderna e anche un po' tecnologica. Ci aspettiamo belle idee. Dura presa di posizione del supporter Trust L'Aquila Me che nel giorno in cui il campionato di Serie D ha osservato un turno di riposo ha richiamato tutte le componenti del tifo rosso-blu per analizzare il difficile momento che è strattaversando la squadra e definire le strategie da adottare nei confronti della società. Diverse le direttive giunte al termine dell'affolata assemblea che si è svolta nella sala della Casa del Volontariato. I tifosi, compresi i gruppi organizzati, chiedono al presidente Chiodi di riconsegnare la società nelle mani del sindaco in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale e quindi dell'intera città impegnandosi contestualmente ad assicurare la gestione della stagione sportiva corrente e soprattutto a farsi carico degli oneri debitori progressi. Al contempo viene richiesto al sindaco di attivarsi insieme ad una delegazione del supporter trust al fine di individuare e valutare eventuali offerte di acquisto della società. Inoltre l'assemblea ha dato mandato al consiglio direttivo del supporter trust di vigilare nell'ambito delle future trattative sul possesso da parte degli eventuali acquirenti di sufficienti credenziali in termini di serietà, professionalità e discontinuità rispetto al modus operandi delle gestioni recenti, con un rinnovamento dell'attuale organigramma dirigenziale in tutti i suoi componenti e un'aspicabile apertura alla partecipazione dei tifosi nell'ambito del sodalizio. L'assemblea ha infine invitato i tifosi e i media a tenere alta l'attenzione sulle vicende per sensibilizzare attori istituzionali e forze economiche del territorio per giungere ad una rapida e positiva soluzione dell'avvertenza societaria. Grazie a tutti.